Hola hola, siamo alle porte del Natale. Hai fatto i regali? Ti manca qualche regalo? Qualcosa di skin care? In questo video ti mostro una selezione. Subito il video! Benvenuti, bentornati. Una settimana ancora qua, pur essendo quasi Natale, pur essendo quasi in vacanze, in ferie. Io ancora in clinica, lavorando tantissimo in questo periodo, perché tutti vogliamo arrivare al Natale belli, splendenti, luminosi, senza rughe, eccetera. Ma per tutti quelli che non potete venire in clinica, per tutti quelli che non sono riuscito a dare appuntamenti perché l'agenda era completamente piena ed è ancora completamente piena, benvenga, grazie al cielo, ho fatto questo video dove vi parlo di qualche regalino che vi potete fare a Natale o qualche regalino che potete fare a Natale. Per tutti quelli che ancora non mi conoscete, che siete capitati qua in questo video, io sono Luis Campos, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di chirurgia estetica e di medicina estetica, lavoro qua a Milano, città da dove vi sto parlando, questo accento non è milanese, non è italiano, sono spagnolo e ogni settimana in questo canale di YouTube vi parlo di cosmetica, di dermocosmetica, di skin care, di tutto quello che voi potete fare a casa per rendere la vostra pelle più luminosa, più bella e soprattutto per rallentare l'invecchiamento. Quindi se ti piace questo contenuto, qua sotto ti puoi iscrivere al mio canale, se ti piace il video puoi fare anche il like e se ti piace il contenuto di quello che si fa in un studio medico, sulla medicina estetica, sulla chirurgia estetica, quello che faccio nella mia vita professionale, non nella mia vita di casa, qua vi parlo da casa mia, potete andare sul mio Instagram che lì vi condivido altri tipi di contenuti. E anche potete seguirmi su TikTok dove metto anche le mie routine di estetica, di cosmetica, quello che faccio qua a casa al mattino e alla sera per provare tutti i prodotti di cui vi parlo. E va bene, volevo fare questo video consigliando qualche regalino di Natale, quindi qua non c'è scienza, qua non c'è ricerca scientifica, quindi un video molto easy, molto semplice per aiutarvi in questi ultimi giorni. Ancora siamo a pochi giorni dal Natale e quindi forse ancora avete il tempo di comprare qualche regalino. Ho scelto prodotti costosi o molto costosi e prodotti meno costosi, così se mi criticate ho da difendermi, mi posso difendere. Allora, primo prodotto che ho selezionato perché l'ho provato, perché mi è piaciuto, vi ho parlato in altri video e sapete che ve lo consiglio, la maschera LED, questa della Karen Body, ce l'ho qua la mia... Guardate, perché io mi sono fatto qua il mio mercatino particolare, non mercatino, ma mi sono messo qua le mie cose. La maschera LED della Karen Body, sapete che avevo già fatto il video parlando della maschera LED, un dispositivo, un device un pochettino costoso, lo riconosco, ma devo dire che dà dei risultati. Come tutti i device di utilizzo domiciliare, bisogna essere costante. Se lo utilizzate una o due volte, non troverete nessun tipo di risultato. Se lo utilizzate di modo continuativo, troverete che la pelle invecchia più lentamente, la grana della pelle è più bella, i pori sono meno dilatati e quindi anche se correggono qualche rughetta e qualche macchia, vedrete una pelle più compatta, di sicuro. Non è il miracolo anti-imvecchiamento, ma si vedono dei cambiamenti e quindi costosa, ma a Natale forse ce lo possiamo permettere. Se volete per un'alternativa un pochettino più economica, c'è questa che me l'avevano regalata, questa dell'Abreala, allora per quello che costa non è male, perché costa circa 100 euro in meno dell'altra della Carrembodi. Devo dire che se paragoniamo questa della Carrembodi, se lo vedete qua, non so se con la luce delle torce si vede, ma vedete tutti questi palini sono le luci a led, quindi sono, essendo silicone, essendo tutti questi pallini a led, quando lo metti sul viso sono molto più in contatto col viso. Questa crea sì la luce da questa parte di plastica e poi anche mi sembrerebbe, ma io non sono sicuro, che queste righine che si vedono qua nella plastica, non so se da casa lo riuscite a vedere, ma ci sono delle righe che teoricamente dovrebbero creare o riflettere il led. Quindi, più economica, la mia scelta, se ti voglia spendere i soldi, sicuramente quella della Carrembodi, ma è molto più costosa, mi sembra che una 100 euro è più costosa, ma è Natale e ognuno con la sua tredicesima che faccia quello che vuole fare. Io approfitto anche per fare la mia lista di desideri, perché io vi faccio vedere quello che ho a casa, ma mi manca qualche cosina e se arriva Vavo Natale, ben venga, per esempio, questo affarino, questo apparato di Sarah Chapman, ancora non l'ho provato, sono curioso di provarlo, crea il vapore, il classico vapore che si utilizzava, che ancora si utilizza per iniziare la pulizia a livello professionale, quando andate dall'estetista. Io non sono molto amante dell'utilizzo del vapore per dilatare i pori e per pulire la pelle, perché penso che ci siano dei detergenti che sono ottimi per detergere la pelle senza dover applicare calori alla pelle, che sapete che non è un mio amante il caldo sul viso, perché dilata i pori, spacca i capillari, eccetera, ma evidentemente qua stiamo parlando di un vapore d'acqua che penso che non sia molto caldo. Vi dico, non ho esperienza con questo apparato, ho sentito parlare molto bene di lui, so che da Sarah Chapman a Londra lo utilizzano anche per i trattamenti professionali, quindi sarei curioso di provarlo. E io l'ho avuto lì. Se me lo volete regalare, io vi do il mio indirizzo, lo trovate nel mio sito Wella Clinica, mi mandate quello che volete. Allora, alternativa super economica per quelli che non potete spendere queste cifre e che volete fare un bel dettaglio, un bel regalo alla mamma, alla nonna, alla sorella o anche al papà o anche al fratello. Qua non c'è genere, tutti possiamo utilizzare la skin care. Questo cofanetto che ho trovato da Sephora di Dr. Yard, sapete che a me Dr. Yard è un marchio che mi piace tantissimo per la cura della pelle sensibile, per la cura della pelle arrossata, ok? E quindi ci sono marchi di parafarmacia che adoro e che vi ho consigliato, ma questa opzione di Dr. Yard da Sephora, da profumeria, la trovo geniale. Loro hanno fatto in questo cofanetto un mix tra quelli che sono i best seller del marchio, che sono il Cicaper, la linea Cicaper, che è per trattare il rossore, e la linea Ceramid, che è quella ricca in ceramidi o ceramidi per ripristinare la barriera cutanea. Quindi persone con la pelle sensibile, con la pelle debole o debilitata, la linea Dr. Yard va benissimo e questo cofanetto va benissimo per cominciare a entrare nella linea. Mi sembra che costa circa 25-30 euro. L'ho trovato super economico da Sephora, nell'online di Sephora facendo ricerca. Un'altra cosa che vi consiglio, che può servire come regalo di Natale, sapete che avevo già fatto il video delle spugne elettriche della Foreo, che io mi sto trovando da Dio con questa, ma ho trovato questo kit, che vi lascio qua il link, dove lo potete comprare, che hanno fatto l'edizione per Natale, dove c'è la spugna elettrica per detergere il viso, questa la Foreo, la Luna 4, ok? Quella che viene nel kit mi sembra che sia la Mini o la Luna 3 Mini, ok? Quindi è il modello precedente a questo. Ma nel kit, per quello che costa, viene la spazzolina e viene anche l'UFO. L'UFO è questo, che non ve l'ho presentato in nessun video, che si mette qua dietro, vedete che c'è questo anello, in questa piastra si mette una, quello che avete sentito, è Rocco che sta giocando, qua si mette una maschera che loro vendono, un pezzettino tondo, si blocca con questo anello, e quindi poi te lo vai a passare, si seleziona il programma con il cellulare, te lo vai a passare sul viso e fa un mix di freddo, caldo, incluso luce LED, perché quando lo accendi, non so se si vede col video, ma ti dà la luce LED, la luce LED rosa e la luce LED blu. Quindi, ottimo come regalino. In questo kit che vi presentavo, adesso non riesco a spegnerlo, ok? Adesso è spento. in questo kit che vi dico, vengono le due cose che sarebbero praticamente i bestseller di Foreo. C'è un altro bestseller di loro che ne parlerò. Adesso, la mia lista di desideri, la mia lista di Natale, cosa vorrei? Ok, di Foreo c'è la microcorrente, il VR, che ce l'ho e mi piace tantissimo, ma non ho mai provato, è il NuFace. E quindi, io aspetto a provarlo. Se lo avete provato, se vi siete trovati o trovate bene, con il NuFace aspetto qua sotto i vostri commenti, di modo che io possa capire se vi siete trovati bene, male, che esperienza avete avuto. Perché io, per esempio, con il Foreo e il VR, mi trovo bene, ok? E devo dire che, come sempre, tutti questi device bisogna essere molto costante per trovare un beneficio, un risultato. Quindi, se lo utilizzate una volta alla settimana o una volta quando vi ricordate, è inutile stare a perdere soldi. E qua ho fatto un'alternativa per voi, di due device che io ce l'ho, un'alternativa per me di un device che non ce l'ho. E adesso vi presento l'alternativa economica per fare un bellissimo regalo di Natale con dei prodotti che a me piacciono tantissimo. Ed è questo cofanetto che ho trovato sempre da Sephora, mi sembra, che è di Stilauder con la linea Night Repair che devo dire che dentro dell'universo Stilauder questa linea, la Night Repair, è ottima. Perché, per esempio, il siero combina diversi ingredienti attivi tra quelli al retinolo e quindi per ringiovanire la pelle, per togliere piccole macchie, per ridurre un pochettino le rughe, come siero alla sera, va benissimo. Io lo adoro, quel siero. Ce ne è dei meglio. Lo accetto. Più concentrati, più professionali, eccetera, ma questo siero è veramente un siero che è da provare. E in questo cofanetto viene oltre a quello viene con la crema, con il contorno occhi, anche per la detersione. Quindi in un cofanetto che costa circa 40-45 euro, mi sembra che l'ho trovato, avete tutta una routine con degli ottimi prodotti. Quindi una bella cosa per poter regalare. Ve lo consiglio. E così vi dico delle cose molto costose e delle cose molto economiche. Come dico, qua non c'è scienza, non c'è commercio, non c'è televendita, non c'è niente. Sono una selezione che ho fatto perché in questo Natale almeno faccio i video un pochettino più frizzantini. Come vedete a casa decorazione natalizia zero. Diciamo che non sono uno che ama tantissimo il Natale. Non mi dispiace, devo dire la verità, ma con tutto quello che vedo nella strada, con tutto quello che ho già in clinica, con tutto quello che si vede in tv, con tutto quello che si circonda e visto che quasi mai sono a casa, ho deciso che non metto gli adobi di Natale, anche perché mi sembra di non averli. Un altro regalino che vi può sembrare carino, può essere divertente, questa maschera, che dite, ma questo cos'è? Allora, questa maschera è una maschera che fa del marchio Renfo, vi lascio qua sotto il link, che fa massaggi, nel senso, questo te lo infili, ti programmi qua il massaggio, si riscalda, quindi da un leggero calore e quindi questa parte in seta ti va a massaggiare la parte degli occhi, quindi se hai problemi di occhi stanchi, di occhi gonfi, un pochettino di cefalea, questo, quando arrivi alla sera di tutto il giorno e stare a lavorare, io devo dire che mi è piaciuta. All'inizio l'ho trovata che mi sembrava che mi succhiava l'occhio e lo trovavo un pochettino scomodo, ma poi, regolando io un testone, ho la testa grande, quindi regolando qua, devo dire che in certi momenti può essere gradevole quel massaggino con un certo calore non è tanto caldo, parlavo prima del vapore per pulire il viso, non è che sia tanto caldo, ma è gradevole. Poi puoi mettere la musica perché si collega bluetooth con il cellulare, e ti puoi mettere la musica, spegnere tutte le luci, ti metti questo, ti dà il tuo massaggino, si rilassa tutta la parte degli occhi e quindi cominci la serata o finisci la giornata con un bel massaggio, una bella coccola, diciamola così. Si può vivere senza questo? Si può vivere perfettamente come si può vivere senza tutte queste cose che vi sto raccontando, ma è Natale, quindi se volete fare un regalo un pochettino diverso a quelli che di solito si vedono, questo può essere un bel device, un bel giochino da utilizzare. Versione economica, di nuovo, per quelli che vogliono fare un bel regalo senza spendere tanti soldi, allora, questo kit di Fresh che lo vendono anche, l'ho visto sull'online di Sephora, Fresh è un marchio che utilizza prodotti molto naturali, non è completamente quel marchio bio, vegano, meraviglioso, che non contiene nessuna cosa chimica, no, contiene cose molto naturali e questi sono i suoi best seller che sono il tonico e anche il detergente e mi sembra che c'era anche un siero a base di soglia, devo dire che di rosa e di soglia, ok, io li ho provati, il detergente l'ho provato mi piace tantissimo, il tonico, l'essenza l'ho provata e mi piace tantissimo, il siero non l'ho provato, se sono chiaro, sono sincero, ma il detergente per una pelle delicata, per una pelle secca va benissimo, l'essenza per dare un boost, un bel pompa, un pompa, no, 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 non posso dire questo, un bel boost di antiossidanti per pompare la pelle di antiossidanti va benissimo, va spettacolare, un altro regalino che in queste in questi momenti dell'anno ve lo potete fare, ve lo potete permettere e che ne avevo già parlato in altri video, questo è il cuscino, il cuscino quello che parlano, il cuscino antirughe, va bene, lo avevo già presentato tempo fa, lo continuo a utilizzare, questo è quello che serve per dormire decubito supino, quindi pancia in su o di lato, perché? perché ha queste due infossature di modo che quando ti giri, non so se si vede nel video, vedi quando ti giri, non si appoglia, non ti preme e quindi eviti le rughe che si creano, le rughe del cuscino che sono tutte quelle che vengono qua, ok? Anche qua possono venire qualcuna, fodera, in seta che tanti mi hanno, è carino questo fa caldo, è fodera in seta che mi avete chiesto, fodera in seta per le rughe, non rughe? Allora, dipende nel senso se ti schiaccia il viso sul cuscino mentre dormi, sicuramente una fodera in seta sarà più delicata di una fodera in cotone o di una fodera sintetica, ok? Perché la seta è un materiale completamente naturale, quindi è più gradevole per la pelle, sicuramente essendo più morbida riduce la possibilità di formarsi delle pieghe e delle rughe e quelle rughe da cuscino, ok? Sai che mi hanno parlato molto bene per esempio voi donne se avete i capelli lunghi, se avete i capelli delicati o avete una chioma non troppo densa parlano molto bene del cuscino con la fodera in seta perché per esempio la fodera in seta la seta evita che i capelli diventino frizzanti come dire quello che si arriccia troppo non mi ricordo come si dice ma che si secca e quindi che poi fate fatica a pettinarlo con la seta quello non succede e questo potrebbe essere un altro regalo di Natale e per chiudere ha anche una versione economica questo mi sembra che costa 15 euro quindi questo regalo lo potete fare qualsiasi l'ho trovato dal sito web di Douglas è questo kit dove c'è il roller di giada ok non è il dermaroller non è quello che ha le punturine va bene che non è che ha gli arretti è solamente il sassino il sasso o pietra di giada di modo che puoi fare il massaggio con la giada come l'infodrenante nella zona qua nella zona dell'occhiaia eccetera viene anche il wash che è l'altra farina l'altra farina di giada pagato per farti il massaggio nella zona di zigomi e quindi riposizionare il volume e aiutare a fare un lifting tra virgolette perché questo non fa un lifting ma aiuta sì a portare sul viso quindi se non ti puoi comprare la microcorrente come per esempio il bear della foreo o il new face che sono costosissimi ti puoi comprare questo e devo dire che massaggiando sapendolo utilizzare si possono ottenere degli ottimi risultati che sì che durano durante qualche minuto qualche oretta quindi prima di una festa potrebbe andare benissimo prima di una festa se uno o una è un pochettino gonfio perché ha ritenzione idrica in questi giorni che si mangia che si beve tantissimo sempre abbiamo il viso un pochettino gonfio con il ruolino con il ruolino di giada ti massaggi di modo che vai a esercitare un linfodrenaggio e poi con il wash te lo vai a passare di modo che vai a riposizionare in su i volumi e quindi ti da quell'effetto di distensione della pelle di effetto lifting effetto sollevamento della pelle che come dico dura qualche ora ma per una festa per una serata potrebbe andare benissimo e questo kit mi sembra che costa 15 euro 17 euro quindi in questo momento dell'anno sicuramente tanti di voi ve lo potete permettere soprattutto perché adesso io ho parlato dei regali costosissimi ma se io penso a tutti i regali che dobbiamo fare in questo periodo uno deve stare attento anche al portafoglio perché altrimenti arriviamo a gennaio come sempre adesso con l'inflazione con i mutui con tutto non è che siamo come per lanciare bocce di champagne al cielo e quindi questa era la mia selezione di regali qualcuno che ho provato qualcuno che non ho provato qualcuno che io vorrei e tante tante belle cose per conservare la pelle più luminosa più giovane e per darci delle coccole qua a casa a casa mia a casa vostra a casa di ognuno di noi io vi ringrazio per questa per venire a vedere per stare a vedere questo video ogni settimana un video settimana prossima non ci sarà un video e direte no non c'è il video no settimana prossima 22 dicembre ci sarà una diretta di modo che finisco di lavorare che sarà il mio ultimo giorno di lavoro prima di andare in vacanza in ferie e alla fine del lavoro farò una diretta teoricamente sarà le sette mezza di sera vediamo come sono messo in clinica perché ho tanti pazienti quindi se vedete che non mi collego alle sette mezza forse mi collego alle otto meno un quarto ma voi dovete stare lì aspettare che io mi colleghi e mi fate tutte le domande e ci facciamo gli auguri di Natale aspetto i vostri commenti sul new face o sugli altri affarini che non ho provato che vorrei capire voi se li avete provati se vi siete trovati bene e vi saluto e ci vediamo in diretta la prossima settimana grazie ciao 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 ciao